Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi parlo di 10 curiosità sui cani. La prima è che il loro tartufo è un po' come una strada in fronte digitale e quindi è unica, non esiste una uguale all'altra. La seconda è che grazie al loro udito possono ascoltare e sentire fino a 220 metri di distanza. La vista. I cani spesso si tende a dire che vedono in bianco e nero, non è assolutamente così. Di giorno non vedono alcuni colori, ad esempio non vedono il rosso, il rosa, non li distinguono bene. Però ad esempio il blu, il giallo e il verde sono colori che loro vedono molto bene e di notte loro riescono a vedere meglio di noi. Intelligenza. Sappiamo bene che i cani sono molto intelligenti, ma abbiamo scoperto che hanno un'intelligenza pari a un bambino di due anni e mezzo. Esistono cani mancini, infatti basta vedere se mettono la zampa a destra o a sinistra. I cani sudano, infatti sudano attraverso i colpastrelli. Il cuore dei cani, a differenza del nostro, può battere a intervalli irregolari e non c'è nessun problema. Gli odori. Come sappiamo i cani sentono gli odori molto bene, ma loro prediligono di gran lunga il puzzo e amano rorarsi nel puzzo, mentre non adorano i profumi. Quindi, sì, questa cosa è anche approvata da me perché Cody è così. I cani possono capire se hai una malattia. E infatti è successo anche varie volte che un cane abbia scoperto un tumore del padrone. E infine i cani possono sentire i terremoti. Anche i gatti, però stiamo parlando di cani in generale. Ad esempio, l'ultimo terremoto che c'è stato, non mi ricordo manco quando perché sono un po' smemorata, però Cody l'ha sentito prima che ci fosse infatti anche svegliata. Spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo sui cani e che abbiate sentito l'abbaglio di Cori visto che l'abbagliato di continua. Lasciate like, iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi i prossimi video. Ciao!